Ritrovare il coraggio della speranza, anche se in molte zone del mondo si vive la passione. Oggi è un giorno per credere nella pace, per provare a vivere questi giorni bui alla luce del risorto, riscoprire una visione di una vita nuova, affidarsi a Dio. Pasqua 2024. Siamo un po' afflitti per il clima di guerra che ormai ci accerchia, per così dire, e i timori di una possibile escalation delle guerre stesse. Sono dei fenomeni che non riusciamo a capire, a comprendere, a controllare, proprio perché salta qualsiasi razionalità, anche se siamo alla ricerca di una razionalità che rimetta in qualche modo ordine. La luce di Gesù, di Gesù che ci dà la sua pace, ma di Gesù anche che giudica, perché le opere malvagie siano svelate e le opere buone risplendano. Dobbiamo noi cristiani alla luce del Cristo crocifisso e risorto lasciarci attraversare dalla sua luce per fare verità in noi e perché possiamo respingere il male che è anzitutto in noi e annunciare con verità la luce della vittoria dell'amore, la forza della vittoria dell'amore, che ha vinto nell'umiltà, nell'umiliazione, che ha vinto nel sacrificio di sé. Per costruire dunque una vera riconciliazione, una vera pace, credo sia necessario, come Gesù stesso ci mostra nella sua vita, offrire se stessi, non cedere in nessun modo alla menzogna o al compromesso, perché noi credenti anzitutto, ma poi ogni uomo, fondi la propria vita sulla verità, sulla giustizia, sulla trasparenza. Che la luce dell'amore, la luce di Cristo risorto, ricomponga in noi la verità nella riconciliazione. Buona Pasqua a tutti.